Una storia che intreccia la vicenda del calciatore Gigi Meroni, talento del calcio italiano degli anni 60, morto tragicamente all'età di 24 anni, è la storia di una generazione. È il senso del libro di Vito Nocera, Meroni come una foglia in ottobre, edito da Garrincia Edizioni. Ieri pomeriggio la presentazione del testo nella sala consigliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco alla presenza di autorevoli relatori e dell'ex leader di rifondazione comunista Fausto Bertinotti. Un'occasione di riflessione attraverso il calcio sugli anni 60 e sulle istanze e le speranze di una generazione. Come nasce l'idea di questo libro? Quali sono i sentimenti che lei ha messo all'interno e che cosa questa storia ci deve lasciare? Nasce dai ricordi di un ragazzo che non ha mai dimenticato quella tristezza, quel dolore di quella sera di ottobre in cui si seppe diciamo della morte di Gigi Meroni. Gigi Meroni era un calciatore capace di grandi suggestioni. È la storia di Meroni ma è anche qualcosa di diverso, qualcosa che va oltre la storia di Meroni. È il tentativo diciamo di riflettere attraverso il calcio che è un grande fenomeno popolare e attraverso la figura di questo straordinario e sfortunato calciatore di riflettere su quegli anni, sulle istanze di una generazione, sulle sue speranze, sulle sue illusioni anche. È una generazione che ha sedimentato, che ha costruito delle cose, la storia non finisce e d'altra parte il fatto che siamo qui oggi a parlarne e a riflettere insieme con tanti amici, con tante persone dimostra che la nostra è stata una generazione che in qualche modo si è conquistato l'autorevolezza di poter continuare a interrogare il presente, a interlocarlo criticamente, a porre delle domande scomode, esattamente come scomodo era il calcio di Meroni lì sulla fascia destra che metteva in crisi le difese avversarie. Come nasce questo progetto? Nasce dall'idea di raccontare il calcio in un altro modo, non la cronaca ma l'atmosfera e quindi trovare dentro le storie del calcio, che metafora della vita è stato più volte ripetuto qui stasera anche da Fausto Bertinotti, trovare delle storie che ci consentano di raccontare altre storie e quindi che consentono di andare oltre il campo da gioco. Come dimostra proprio questa stupenda serata qui a Torre del Greco consente poi di affrontare temi che riguardano tutti e quindi non soltanto gli appassionati di calcio. Perché la figura di Meroni è una figura simbolo? Perché è un'istanza sociale che apre una crisi in una società che è rimasta profondamente destrorsa, conservativa, che non aveva nessuna intenzione di accogliere un ragazzo con i capelli lunghi, baffi, che faceva del dribbling la sua espressione massima, che stava e amava come una donna che era già sposata prima del divorzio. Quindi anticipa tutto quello che sarà il 68 e che sarà la rivoluzione anche se in Italia arriva nel 77, quindi ho un po' di ritardo. Però Meroni la anticipa, anticipa questa crisi e porta delle istanze che erano istanze sociali prima che sportive. Fausto Bertinotti stasera qui a Torre del Greco nella sala consigliare di Palazzo Baronale per la presentazione del libro di Vito Nocera, Meroni come una foglia in ottobre. Cosa ci lascia questa storia? Intanto ci lascia un libro bellissimo. Vito Nocera ha scritto un libro filosofico, cominciando una riflessione sulla figura di Meroni, figura molto intrigante nella sua irregolarità, nel suo essere esterno, nel suo vincere attraverso l'inganno, cioè la capacità nel dribbling di essere più forte dei forti, cioè di fare della fragilità un elemento di forza. E questa è, io credo, una cosa suggestiva per il futuro. La sua morte purtroppo stroncherà per un incidente, una possibilità che si era dispiegata, ma in qualche modo la sua vita costituisce un annuncio che sarà poi raccolto dal 68 al 69, cioè da una generazione che non si arrenderà ad accettare l'esistente. Lei prima diceva che lo sport è specchio della società, come è oggi la società? La società oggi è la città del mercato e lo sport è lo sport del mercato. Aspettiamo la ribellione. E il suo messaggio oggi qui a Torre del Greco, soprattutto alle giovani generazioni? Non arrendetevi, alzate la testa, ribellatevi, non fatevi ingannare dall'idea che non c'è altro mondo che questo. Questo mondo fa davvero un po' schifo, è meglio sottrarsi. Grazie a tutti.